Grazie, siamo un'associazione che si occupa del recupero e della salvaguardia principalmente degli autobus storici e quest'anno abbiamo voluto presentare una carrellata degli anni Ottanta caratterizzata dall'arancio che era il colore ministeriale degli autobus al tempo. Abbiamo tre veicoli che erano di Trieste, altri due che vengono da fuori e volevamo far partecipare la gente di questa cosa qua, della nostra attività. Un autobus della linea 38 principalmente è stato acquistato dall'allora azienda consorziali e trasporti proprio per effettuare queste linee un po' impervie, diciamo così, e ha una meccanica particolare derivata dai cambi. Grazie